Nella giornata di ieri, martedì 20 luglio, è andato in onda, in occasione del Castellabate Film Festival, il primo dei quattro talk show previsti. Gli ospiti d'eccezione, che hanno tenuto compagnia Gianni Petrizzo e i suoi collaboratori, sono stati Antonio Vuolo, che ha rappresentato la bellissima realtà calcistica del comune di Castellabate, la polisportiva Santa Maria, poi Danilo Palmieri, guida ambientale escursionistica, Gianfranco Di Luccia, presidente dell'Associazione Pescatori di Castellabate, l'archeologo Francesco Adamo ed infine, ultimo, ma non per ordine di importanza, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino. Molteplici le tematiche trattate, a partire dallo sport, con la polisportiva Santa Maria, vera e propria punta di diamante, che durante la stagione 2020-21 ha disputato per la prima volta il campionato di Serie D, risultando anche seconda nella classifica giovane di valore. Per quanto concerne l'archeologia, proprio con Francesco Adamo si è discusso sulle scoperte recentemente rinvenute, tra cui il famoso relitto di Punta di Cosa, il porto romano, che rappresenta il lato della zona militare, in epoca proprio romana, e la cava dei rocchi, sulla spiaggia di lago. Infine, Tommaso Pellegrino si è cimentato sull'analizzare le bellezze naturali di cui beneficia il comune di Castellabate, e l'importanza del paese anche a livello cinematografico. Diversi consigli anche per i giovani, tra cui quello di fare rete, inoltre instaurare unione e sinergia, elementi che non devono mai venire a mancare, con diversi elogi ancora nei confronti della polisportiva Santa Maria e dalle altre associazioni. Adesso, il prossimo appuntamento con il No Talk Show, questa sera, sempre dalle 19 alle 20.30 al Castello dell'Abate.